Ciao, oggi ho messo la base della Loving Nees, poi ho messo due passate di questo celeste chiaro che è il numero 37 della Kiko e una passata di questo della Kiko, che il numero non ve lo so dire perché fa parte di quel kit con il top coat poi prendo questo rosso, che è sempre uno di quelli che fa parte del kit di top coat e ne metto una goccina nella vaschetta prendo un pennellino, il colore e l'idea è quella di fare una stella marina per cui prima faccio le 5 punte per darmi un punto di riferimento di dove le faccio poi con il pennello mi allungo nelle punte a presto il colore prendo un bianco questo è della pupa ed è il numero 001 il pennellino e su questa unghia prendo il colore e faccio un salvagente sempre con il bianco e col solito pennellino faccio qui sotto tipo che rappresentino delle onde riprendo il rosso quello della stella marina sempre la goccina nella vaschetta e sul salvagente si faccio le quattro righe con il bianco faccio l'effetto onda anche di qua dal salvagente messo il top con il bianco questo delle sales e questo è il risultato finale l'ho riprodotto anche sull'altra mano e grazie se avete guardato anche questo video ci vediamo la prossima volta ciao